Sentita partecipazione ieri sera alla fiaccolata di Sanremo contro gli orori di Bibiano, affinché in figli non vengano più tolti ai loro genitori naturali e vengano puniti severamente i falsi psicologi e quelli assistenti sociali che male svolgono il loro delicato lavoro, esercitando male un potere non sottoposto ad adeguati controlli. Giù le mani dai bambini, questo il grido lanciato dai presenti al corteo che si è snodato per le vie di Sanremo. Cittadini e turisti che hanno preso parte alla fiaccolata organizzata da Sanremo Libera per esprimere vicinanza e solidarietà ai bambini e alle famiglie di Bibiano. Una luce per rompere il silenzio, questo l'emblema della manifestazione. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato in maniera particolare all'Associazione Papà Separati Liguri e a Futura Sanremo per il prezioso aiuto fornito ad organizzare l'evento, hanno scritto gli organizzatori sui social. È stata una bellissima e toccante serata che speriamo possa servire ad evitare che su questa triste vicenda possa calare il silenzio. Vergognosa e demoralizzante è la totale assenza dell'intera classe politica saremese, per la quale evidentemente persino i bambini hanno un colore politico e quindi meglio non metterci la faccia. Noi hanno detto abbiamo acceso tutti una luce per rompere questo assordante silenzio. Il solo ed unico scopo è stato quello di creare un momento di riflessione e vigilanza sociale aperto a tutti, totalmente chiuso alla strumentalizzazione politico-partitica.